Allora, buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 febbraio. Vediamo subito quali sono i temi della giornata. Sono fatti all'aperto, ho un po' la giacca perché fa freddo, diciamo così, che non è ancora un clima primaverile, almeno qua a Brescia. Allora, nella giornata la notizia fondamentale forse è questa. Fitch, l'agenzia di rating, e le interpretazioni sui voti dell'agenzia di rating, tra l'altro la più sfigata delle tre, Moody's e Standard Pulse, vengono considerate le due grandi agenzie di rating e poi arriva Fitch, ce ne sono anche altre, è che in realtà il messaggero dice graziata, mentre il giornale dice duro il dato dell'agenzia di rating, così come anche Giannini su Repubblica, insomma, ne prendono un'interpretazione più negativa. Buongiorno a Rita che vedo che ci sta guardando. La realtà è che loro si permettono di dire che in Italia tra poco arriveranno delle elezioni anticipate, secondo loro il 2019. Allora io mi chiedo, ma perché questi signori delle agenzie di rating non li invitiamo in trasmissione, non ce li portiamo a casa? Cioè, sanno tutto, sanno dove va l'economia, sanno quando ci saranno le elezioni in Italia, riescono a capire rapporti tra Grillo e Casaleggio e Salvini, ma voi avete mai visti quelli che lavorano per le agenzie di rating? Avete mai conosciuto delle persone in Italia che lavorano per le agenzie di rating? O sono forse nei loro ufficetti di Londra e ci spiegano attraverso la lettura dei giornali che cosa sta avvenendo in Italia attraverso le loro pip mentali? Conoscono Salvini, hanno rapporti con la politica italiana, conoscono Patuanelli, non lo so, questi personaggi che neanche noi conosciamo. No, soltanto questi analisti delle agenzie di rating, con la stessa presunzione con la quale loro presumono che cosa succederà all'Italia, presumono che, da un punto di vista economico, lo presumono anche dal punto di vista politico. Molto più interessante, secondo me, rispetto alle agenzie di rating, un retroscena oggi della Repubblica o del Corriere della Sera che dice che in prospettiva a luglio si arriverà a un aumento selettivo di alcune voci per quanto riguarda l'IVA. Quindi, siccome noi abbiamo le clausse di salvaguardia di 27-28 miliardi di aumento dell'IVA per l'anno prossimo, siccome avremo pochi soldi a luglio, dopo le elezioni europee, si farà una manovra per aumentare su alcuni beni che, vedrete, verranno considerati di lusso non necessari, l'IVA. Questa è una cosa che circola da tempo, non solo per questo governo, ma anche per altri governi. Mi sembra l'unica cosa interessante dal punto di vista economico, mentre Trias sta smettendo completamente ogni tipo di manovra aggiuntiva sui giornali di oggi. Lance, l'Associazione dei Costruttori Edili, dice che in Italia sono bloccate 600 opere, Repubblica ci fa un grande titolo. Però, ragazzi, anche qui non sapete bene come la pensa su questo governo e sulle follie nel bloccare quelle poche opere che erano partite. Ma non sarà soltanto colpa dei Grillozzi nella chiusura delle opere. Vi ricordate il codice degli appalti fatti dal governo Renzi, quella cagata mostruosa per cui si è bloccata l'Italia? Beh, insomma, di queste 600 opere molte sono bloccate non per la stupidagge dei Grillozzi, che è doppiamente colpevole perché inserisce un blocco su una situazione già disperata, ma perché ci sono leggi e burocrazie precedenti fatte dal precedente governo che hanno sostanzialmente bloccato il sistema economico. La follia dei leghisti è proprio questa, di non rendersi conto che già era tutto bloccato da quei precedenti pazzi che hanno fatto il codice degli appalti e oggi viene peggiorata perché ci sono anche 4, 5, 6, 7 opere, grandi opere, che vengono bloccate dalla follia dell'analisi costi e benefici. Il Sole 24 Ore oggi titola, cosa che non leggo sugli altri giornali, che questo governo, me lo auguro, cambierà con un decreto la prossima settimana appunto il codice degli appalti e con esso nominerà tutta una serie di commissari ad acta. Tutto questo però confligge su un'altra vicenda che ha a che vedere col cosiddetto decreto legge spazzacarrotti, quello per il quale Formigoni ha 72 anni, è finito il giorno stesso in carcere, non ha i benefici degli ultrasettantenni e soprattutto Formigoni non potrà avere nessun beneficio penitenziario, affidamento ai servizi sociali o addirittura permessi a casa. Cioè sostanzialmente Formigoni è come se fosse un mafioso e il suo non è un ergastolo ostativo come quello di Irina, ma è una condanna a 4 anni ostativa, cioè lo metti in carcere e butti la chiave. Tra l'altro, come notano molto bene oggi alcuni giornalisti, indipendentemente da quello che ha fatto Formigoni, questo riguarda, è una condanna che peggiora la vita carceraria in maniera retroattiva perché quando lui avrebbe commesso, ha commesso secondo le sentenze questi reati, non c'era ancora questo spazzacorrotti. Quindi lui paga una pena in modo retroattivo. Quando fra dieci anni diranno che chi vede la zuppa deve andare in galera, beh questo può valere solo per il futuro, non può valere per voi che la state guardando oggi. Follie tra le follie. Con l'aprico sulla Repubblica, ovviamente quelli di Repubblica hanno fatto una battaglia contro Formigoni, ne hanno dette di tutti i colori nella sua gestione del potere, sono loro che parlarono dei prestiti, dei rapporti con D'accordo, cioè di tutte le questioni che riguardano, vedi qua, politici, corrotti e ladri, per me sono più dei mafiosi. Complimenti, una buona idea, più dei mafiosi. Quindi la proporzione della pena non vale, cioè Formigoni è peggio di uno che ha ammazzato, squagliato i bambini, ucciso, rapinato, stuprato, è peggio, va bene, va benissimo. Insomma l'Italia comunque è fatta da voi, è fatta da voi che avete votato i Grillozzi, ma era fatta da voi anche nel 93, nel 92, quando c'è stata Mani Pulite. Quindi io alzo le mani, è anche fatta da noi che vogliamo che per la microcriminalità, come vediamo sempre a Quarta Repubblica, si menino e si uccidano sostanzialmente questi microcriminari. Ma con l'aprico noto un'altra cosa, che voi godete loro stessi di Repubblica, diciamo la sua cattiva coscienza, noi godiamo di Formigoni in carcere, ma attenzione, perché viene calcolato come mafioso anche il funzionario che si becca 200 euro, cioè il funzionario pubblico che si becca 200 euro verrà arrestato e gli verranno tolti tutti i benefici carcerari come a un mafioso. Gad Lerner oggi, incredibilmente, oggi lo ricordo il giornale, vederlo finire così a 71 anni non mi dà alcuna soddisfazione, non mi sembra che abbia più alcuna pericolosità sociale. Tutti i giornali si interrogano sul modello Lombardo della sanità, il migliore in Italia che è stato costruito da lui, intervista di Lupi, ma soprattutto molto bello, secondo me, la testimonianza della sua portavoce Gaia Carretta su Facebook, oggi ripresa dal giornale. Il Corriere della Sera invece dice che il Procuratore Generale è già pronto a dire di no ai domiciliari per Formigoni, proprio probabilmente in virtù di questa legge. Reddito di cittadinanza, ci sarebbe da dire ancora tanto su Formigoni, ma non è questo il momento per farlo. Reddito di cittadinanza, favoloso, è comparsa una norma attraverso un decreto, io non sono scandalizzato sul fatto che nessuno possa controllare come si spendano le cose, perché questo è successo ieri in un emendamento che è stato portato, cioè se io con questa card mi compro, non so, le ore, che non c'è più, o un film porno, lo posso fare, perché non si può controllare? Perché è la privacy, quindi i soldi miei li do allo Stato, lo Stato li dà attraverso reddito di cittadinanza, perché reddito di cittadinanza non altro che la ridistribuzione dei miei soldi a quelli che non ce la fanno, e lo Stato non può controllare come li spende, perché per la tutela della privacy, a me mi fa venire il sangue al cervello, cioè questa cazzo di privacy, se i soldi sono miei, li sto dando lo Stato e lo Stato li dà per assistenza, posso sapere come li spende o no, perché violo la privacy, se devo sapere come spendono i soldi quelli che godono il reddito di cittadinanza, è una roba da matti, altrettanto da matti è un'altra norma che è stata introdotta in corso sul reddito di cittadinanza, che tu sei libero di non accettare il lavoro se il lavoro ti dà una riduzione mensile inferiore a 858 euro, allora voi geni mi dovete spiegare tra i 18 e i 24 anni, questi signori o vengono assunti a 1200 euro, 1300 euro, oppure se vengono part time, non part time, a 858 euro, cioè i primi lavoretti a 850 euro hanno il diritto di prendersi l'assegno da 780 invece che lavorare, vi sembra una cosa sana, vi sembra una cosa che migliorerà il paese? Io penso che sia una cosa allucinante. Interviste, due o tre cosette leggere, su politica c'è Casaleggio in un colloquio col Corriere della Sera, un fake, non leggetelo, è semplicemente la risbobbinatura di un incontro che fece ieri Casaleggio al Corriere della Sera dove dice praticamente nulla come sempre Casaleggio, c'è una bella battaglia tra Casaleggio e Conte per capire chi di due parla di meno con i giornali, cioè parlano ma dicono poco, dice che sono un migliaio le persone che sono già candidate all'Europe, hanno proposto la loro candidatura all'Europe per il Movimento 5 Stelle, dice Casaleggio al Movimento 5 Stelle, ma il fatto già che gli diamo peso a sto Casaleggio, Casaleggio, avete visto quella faccia che c'è a Casaleggio, gli diamo peso, non è come quella merda di Grillo, anzi io non ho nessun motivo per pensare che non sia una persona intelligente per bene, non me ne frega niente, non è una merda come Grillo, non è un bulletto con i capelli bianchi vanitoso e assassino come è stato Grillo, no, non è quella roba lì Casaleggio, quello è Grillo, la merda è Grillo, Casaleggio non so cosa sia, ma è totalmente inutile oggi leggerlo sul Corriere della Sera. Due o tre cosette che mi divertono oggi sono una che riguarda le scarpe Nike, non sono le mie, oggi sono elegante, senza Nike, ma le Nike sono state messe a un giocatore, un giocatore, giovane, giocatore super famoso americano che stava diventando tale di basket che si chiama Ziom, sembra il nome di un personaggio di Matrix, Williamson, fortissimo, 130 kg, si rompono le scarpe, ma la cosa favolosa è la cattiveria dei concorrenti Puma e Adidas che attaccano subito sui social dicendo che con le nostre scarpe non sarebbe avvenuto, cosa che fece Nike per la verità anche nel passato riguardo proprio ad Adidas, ci racconta tutto questo, Bonizzi oggi sul Corriere della Sera, 1,1 miliardi di capitalizzazione persa ieri in borsa perché si sono rotte le scarpe Nike durante una partita di basket in America. Beh, fantastica, intervista alla Tamaro sul giornale da leggere, Susanna Tamaro da leggere, il giornale racconta questa scrittrice straordinaria perché dice va dove ti porta il cuore fu tacciata di fascismo, siccome lei dice, citavo i Gulag di Tito perché io sono di Trieste e quindi so che dramma furono, oppure uno dei miei personaggi leggeva Evola, ecco io sono diventata la fascista e siccome non vado alle cene e non sono di sinistra io sono polto poco amata. Tutta da leggere Susanna Tamaro, vi piacciono o non vi piacciono i libri, è comunque uno dei grandi fenomeni letterari italiani, così da le ultime due notizie riguardano il mental coach, mental coach. Allora la Grillo è il nostro ministro della sanità, sono quelli di onestà, onestà, onestà e si è presa un mental coach a 35.000 euro all'anno, ma per me potrebbero essere anche 25.000 che paghiamo noi, noi stiamo pagando 35.000 euro per avere un mental coach che parla con la Grillo e che gli spiega come comunicare bene. L'ultima cosa che ha fatto, video sulla legge quadro, questa è l'unica cosa che ha fatto, ha guardato il video sulla legge quadro che dovrebbe aiutare i cittadini ad aspettare di meno quando fanno le visite. Vi ho letto proprio la frase, questo è una delle ultime cose che ha fatto il mental coach e l'altra cosa è che noi abbiamo una legge quadro per far sì che i cittadini aspettino di meno. Ma io penso che c'è una legge per aspettare di meno, ci vuole una legge, cazzo, come abbiamo abolito il decreto con il decreto della povertà, adesso con una legge quadro, legge quadro, aboliamo le file negli ospedali. Ma chi la raccontano? L'unica cosa vera è che stiamo spendendo 35.000 euro per avere un mental cazzo di coach che parla con la Grillo, come fosse una star di Hollywood che hanno i mental coach, non solo anche loro, molti bankers hanno i mental coach. Quindi la cosa che mi fa sorridere è come i politici della nuova generazione spendono come la vecchia, ma a differenza della vecchia invece che prendere delle cafonate, delle ragoste, dei filetti, del barbaresco, si prendono il mental coach, si prendono del sushi, ma non cambia, cambiano soltanto le generazioni, i soldi sono sempre nostri, non vi preoccupate. L'ultima cosa riguarda invece un grande manager italiano che si chiama Bono, il capo di Fincantieri, che secondo Repubblica sarebbe a rischio perché lo vorrebbero far fuori. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e mi raccomando, rivolgetevi al mental coach perché il sabato è una giornata fondamentale per la vostra salute mentale e se vi piace questa zuppa condividetela. Ciao!